E poi, vi lascio i ragazzi. Il prossimo brano che suona è... è stato probabilmente uno dei più difficili del disco. Vado a raccontare un momento difficile. Questo brano è dedicato a mio padre, che ho perso un paio di anni fa. Io ero a Milano. In quel periodo sono tornati al set. È stato un po' la... Al mio rientro a Milano, nessuna voglia di suonare vita. Voglia di sentire casa. Così ho chiamato. Io ho iniziato a parlare con le mamme. Il fratello è solo... Ma mi ricordo una persona. Così ho provato a immaginare questa conversazione con gli avrei raccontati prossimi. Tu e la prossima cosa c'è da tutti. E sono sicuro che mi avrebbe detto, se sei fin di cena, va bene. 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 Preparato. I paziente là. Si. I paziente, va bene. Se sei fin di cena, va bene. Se sei fin di cena, va bene. Sì, allo sai. Se sei fin di cena, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.